Cambia l'interlocutore, ma il dialogo fra la Toscana e il Governo centrale non si ferma. Il neoministro di Ambiente e Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, raccoglie l'eredità di Roberto Cingolani alla transizione ecologica, ma tutto il nuovo esecutivo, guidato da Giorgia Meloni, giocherà un ruolo decisivo negli interventi per limitare i costi dell'energia, partendo dall'ultimo accordo in consiglio UE lasciato da Mario Draghi. Avevamo una dimensione di vitalità nel nostro sistema produttivo che ha trovato e sta trovando lo stop con l'aumento abnorme dei costi energetici e quindi qui occorre certo quello che Draghi è riuscito come l'ultimo colpo a fare, ovvero una programmazione europea che possa mettere un tetto al gas, ma poi si tratta di agire in Italia e quindi saranno necessari interventi che vedano e metteranno subito alla prova il Governo. Un impianto, quello di Piombino, che funzionerà nell'interesse nazionale e che permetterà di smarcarsi in maniera netta dal gas russo. Un impianto che ci darà 5 miliardi di metri cubi di gas e conseguentemente un alleggerimento rispetto alla dipendenza del gasdotto russo. Ecco che noi diamo un messaggio che io spero il Governo riesca a raccogliere. La nostra regione, con l'aumento della capacità di lavoro del rigassificatore di Livorno e l'autorizzazione che martedì Gianni firmerà per l'arrivo della nave Golar Tundra a Piombino assumerà un ruolo chiave per la distribuzione del gas in tutto il Paese. Siamo in questo momento la regione guida. Considerate che in Italia ce ne saranno 5 e di questi 5, 2 sono in Toscana. A Piombino la nave Tundra che da metà aprile potrà entrare in funzione e quello di Livorno che già sta aumentando i propri ritmi.